Ciao a tutti ragazzi da Ricomini Giovanni, dal mio canale Stile di Vita Io Non Ci Sto Oggi è domenica 26 marzo 2017 e sono esattamente le 10.10 del mattino Ecco, stamattina ho iniziato la giornata, già ieri avevo saputo di questa cosa poi stamattina ho avuto modo di approfondire la notizia e niente, io per chi mi conosce sa che io sono di Padova abito qua a Padova, non sono padovano, sono padovano di adozione ma abito qua a Padova da 20 anni e niente, è successo l'ennesimo fatto di quello che io mi sto interessando ultimamente qui vicino, a un paesino qui vicino a Servazzano dentro un paesino a 10 km qua dalla città questo ragazzo ha 17 anni che ha sparato in testa con una carabina calibro 22 al papà ecco la cosa, anche ieri quando l'ho vista ritorniamo sempre al punto di partenza ritorniamo sempre al punto di partenza dal fatto di veramente cosa sta succedendo a questi ragazzi qua a tutti questi ragazzi giovani qua vicino alla successa Ferrara tanto tempo fa quelli ragazzini che avevano ucciso i genitori la colpi di ascia poi qualche giorno fa era successo qua dove era, qua vicino a Treviso dove era quel ragazzo di 19 anni che la fidanzata gli aveva detto di essere incinta l'ha uccisa e poi con i soldi che ha ricavato dalla vendita della collanina di questa ragazza è andata a giocarsi dal videopoker e ieri il decimo fatto ecco sembra quasi la storia di un videogame no? sembra quasi la storia di un videogioco ecco la cosa che a me veramente lascia lascia veramente sconcertato no? che ho detto anche nell'ultimo video che avevo fatto sulla baby gang che era successa lì a Vigevano che avevano avevano molestato quel ragazzino lì avevano violentato quel ragazzino sta baby gang che la prima preoccupazione dei genitori dei ragazzi accusati è stata no? il mio figlio non fa queste cose ecco ce li siamo al punto di partenza no? perché ogni volta che io faccio questi video giustamente ci sono i commenti e più delle volte ci sono dei commenti che mi lasciano veramente a bocca aperta commenti di fatta ma tu che ne sai non è colpa dei genitori non è qua e non è là allora io innanzitutto come sempre premetto che quello che io dico è il mio punto di vista giusto o sbagliato che sia è il mio punto di vista io non sono un giudice non sono un psicanalista non sono un psicologo non sono un criminologo però è il mio punto di vista io lo dico come io vedo la situazione e poi giustamente io come si dice condivido con chi vuole vuole discutere di questa cosa però sempre come persone mature senza presunzione senza né che né come e niente mi arrivano tutti questi 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 messaggi no? dicendo ma tu che ne sai piripim parabampo io che ne so che ne so innanzitutto io ho sempre detto che se parlo parlo per vita vissuta parlo per esperienza parlo per delle cose che ho vissuto sulla mia pelle su cose che ho pagato e continuo a pagare sulla mia pelle e anche su cose che è brutto dirlo però mi hanno toccato anche da vicino perché ognuno di noi abbiamo le nostre famiglie abbiamo i nostri parenti abbiamo le nostre situazioni quindi se io tante volte mi permetto di dire un qualcosa è perché lo commento da come mi ha toccato da vicino è quello che io stamattina per esempio una cosa che io sono rimasto scioccato stamattina che andando al bar andando al bar sono andato a prendere le sigarette al bar siamo messi a scambiare due parole la prima cosa io ho detto avete visto cosa è successo qua a Selvazzano di questo ragazzino sì sì vabbè vabbè ma che cos'è però hai visto la Ferrari che la Ferrari ha vinto cioè ragazzi ci rendiamo conto cioè mamme di famiglia mi hanno detto così padre di famiglia sì sì però hai visto hai visto la Ferrari ha vinto c'è ragazzi stiamo parlando di un ragazzetto di 17 anni che gli ha inchiolato una pallotto la Cali Pro 22 nella nuca al padre ma ci rendiamo conto veramente siamo arrivati al punto che veramente non lo so è un videogame tutto un videogioco è una a parte che la cosa che a me lascia sempre un po' sconcertato il fatto sono i genitori sono i genitori di questi ragazzi che comunque combinano sti guai che all'inizio cosa è un genitore cosa succede dice legge sotto una chiave di lettura e interpreta la cosa a suo comodo cioè nel senso è più facile che un genitore dicca come questo che è successo ieri a Selvazzano che il ragazzo dice ah ho fatto uno scherzo volevo fare uno scherzo è partito un colpo che difende al figlio dicendo sì ma è stato un gioco cioè è più comodo da parte di un genitore di un gioco perché innanzitutto innanzitutto quando succede una cosa di queste è incredula due si sente fallito come genitore perché se onestamente se io avrei un figlio e mio figlio spara mia moglie io mi sento fallito nel senso di ma c'è un ragazzo che studia senza lei che ne come prende la pistola ammazza prende il fucile ammazza mia moglie dico allora io non ho capito nulla e giustamente io la vedo come nel modo in cui mi conviene e difendo il figlio no signori non c'è da difendere i figli i figli c'è da proteggerli è diverso protezione e difendere sono due cose diverse perché difendere e difendere si difende quando hanno combinato un guaio per paura di perdere la faccia per paura di tutto quello che viene fuori si difende però bisogna proteggere i figli c'è nel senso capirli stagli vicino cercare non vuol dire che se tu gli stai addosso se tu gli stai attaccato cerchi di capire cosa succede succede che magari non fare una cosa di queste ma la cosa di queste sicuramente la faranno però un conto è dire ci ho provato ci ho provato comunque ho visto che c'era qualcosa che non andava ho lottato e purtroppo mi è sfuggita di mano è una cosa invece non provarci non vederla non volerla vedere perché forse poi per i genitori di oggi è più comodo comprare un telefonino è più comodo parlare della Ferrari è più comodo dare 50 euro che almeno non rompono i coglioni e se ne stanno là i figli che stagli dietro è dura fatica a stagli dietro però il prezzo di questo alla fine è 100 volte più caro perché poi onestamente succede quello che succede ecco io io dico che sono anche i figli perché onestamente uccidere uccidere non è uccidere non è fumarsi una sigaretta ci vuole del coraggio bisogna avere del sangue freddo e io come sempre dico mi dispiace dirlo assassini assassini si nasce non si diventa assassini perché avere il coraggio di uccidere e guardare negli occhi una persona guardate che è una cosa difficilissima è come quando uno dice si suicida uno dice si si suicida si metterà sul bordo del balcone però quando guardi sotto ci vuole coraggio lanciarsi è lo stesso quando si uccide una persona quindi io penso una cosa no io penso una cosa che la cosa più grave che un essere umano un uomo si possa macchiare io penso che l'apice di un essere umano che si possa macchiare è l'omicidio cioè uccidere un altro essere umano un suo simile ok oppure una madre che uccide un bambino quello è il massimo dico il massimo dello schifo del come ti posso dire del male è il massimo che un uomo può commettere è l'omicidio quindi io dico una cosa se una persona adesso voglio voglio generalizzare non mi fermo su sto ragazzo se una persona arriva a uccidere a fare la cosa più brutta che un uomo può compiere con una tranquillità tale cioè uccidere un genitore uscire nascondere l'arma farci un giro tornare a casa fingere fingere no fingere di aver scoperto in quel momento il cadavere del padre poi ha messo alle strette mentire dicendo che è stato un gioco finito male perché io dico mi auguro io faccio con mi auguro che non mi succeda mai che non mi trovi mai in mezzo a una cosa del genere ma se io dovessi giocare con un'arma e non volendo mi parte un colpo verso mio padre verso mia madre un parente ma io non scappo ma io cerco butto via la pistola resto là reagisco cerco di salvarlo ho fatto una cazzata provo no no scappi tranquillamente ti crei l'alibi tutto tutto ormai l'omicidio è diventato come come ti posso dire come dire una bugia quando uno fa buca a scuola uguale cioè si calcola tutto uno si fa vedere in giro calcola cosa deve dire ma con una tranquillità una freddezza tale che disarmante è la cosa quindi quello che io voglio dire se un uomo un ragazzo una ragazza quello che sia riesce a macchiarsi di una cosa riesce a avere il coraggio di fare una cosa del genere io ho sempre detto è un po' come il maiale o l'orso no l'orso e il maiale la prima volta che assaporano il gusto del sangue no che sia di un uomo che sia di un animale non se lo scordano più diventano matti cioè loro continueranno continueranno sempre a voler avere quel brivido di assaggiare e c'è l'omicidio è la stessa cosa c'è una persona che arriva a uccidere si può calmare può stare tranquilla per tanti anni però è un po' come la droga no la droga cosa succede? la droga ti dà un effetto talmente forte no? che ti porta a non voler guardare più tua madre tuo padre i tuoi figli il lavoro niente ti azzera tutto ha una potenza un potere su di te talmente forte che c'è lei in primo luogo cosa succede? se tu uno riesce a disintossicarsi da questo comunque dentro di sé la questione questa cosa forte rimarrà per tutta la vita quindi lui fra 30 anni 40 anni quando una persona avrà bisogno sa che quella cosa gli potrà risolvere i problemi e con la facilità che ha avuto una volta può ricaderci perché i crimini le dipendenze sono altamente recidivanti cioè nel senso uno che si manca di una cosa e fa una cosa la volta della vita è sempre in pericolo di ricascarci dentro figuriamoci un omicidio quindi una persona che con facilità ha ammazzato un'altra persona fra 30 anni chi me lo dice che tu gli fai un torto gli sbarella il cervello in quel momento e ti uccide quindi questo cosa vuol dire io non voglio condannare perché lo dico sempre io non voglio condannare nei miei video ma io mi sono rotto le scatole sentire questi genitori che hanno sempre una scusa una scusa i genitori siamo i primi a metterci in discussione dobbiamo metterci in discussione come stiamo dietro ai nostri figli io glielo ho detto a mia sorella se mia nipote domani mattina ti uccide a me non mi sembra strano perché state guardando chi è che fa tutte queste cose i più insospettabili quindi io avrei come stare vicino a questi ragazzi innanzitutto non proteggerli cioè un genitore una mamma quello che rimane un parente quello va in carcere ragazzo non abbandonarlo no però invece di andarlo a trovare in carcere mandargli una lettera ogni due tre messe una lettera fredda tranquilla fra dieci anni quando tu mi dimostri che veramente hai iniziato a capire ciò che ti è successo iniziamo a vederci vengo a trovarti perché ragazzi una persona che combina una cosa del genere dieci anni gli servono solo per rendersi conto come si chiama nome e cognome dieci anni quindici anni gli servono per sapere dove si trova vent'anni per sapere quello che ha fatto e dopo vent'anni decide decide se si vuole dare una regolata ma se un genitore o dei parenti qualcuno che gli stanno dietro poverino andiamo a trovarlo no no ragazzi si rovina ragazzi si fa il gioco del ragazzo il gioco dice cavolo se io ho fatto una cosa così grave la famiglia comunque mi perdona e mi sta vicino quindi io me li posso rigiocare quando voglio come voglio io non dico di abbandonarli ma neanche subito dargli la pappetta a sti ragazzi qua è quello che voglio dire io cioè ragazzi mettiamoci veramente in discussione ma tanto in discussione perché non è normale che un ragazzo di 16 anni spara il padre 17 anni spara il padre non si sa perché l'ha fatto per gioco per ripicca non si sa perché l'ha fatto tranquillamente esce nasconde l'arma va a casa fa tutto il cinema del rimpianto che piange che si dispera poi poi cosa fa di sano è stato un gioco finito male ma stiamo scherzando stiamo scherzando ma un ragazzo così si piglia si mette in casa e si butta via la chiave e ti venga a trovare fra 15 anni quando mi dimostri di aver capito un po' di esserti reso conto un po' di cosa hai fatto se no si rovina invece di aiutare si rovina ora la mamma gli sta vicino poverino si portiamogli anche le sigarette tranquillo ha ucciso il mio marito e gli sto anche vicino si rimane il mio figlio ho capito che tuo figlio lo sto dicendo di ucciderlo ma stagli vicino in un modo diverso se non c'è stato capace di stagli vicino fino a ora e ha combinato quello che ha combinato adesso non riesce stagli vicino ormai il danno è fatto la rottura è fatta è finito tutto quindi fagliela soffrire bisogna fargli cacare stagli vicino però sai voglio dargli l'amore non vuol dire bacette dargli l'amore vuol dire pure ogni tanto dargli una bastonata e non aver paura di dire le cose come stanno ecco quello voglio dire e sempre tenere sotto anche quello è amore però poi che fa quando poi è troppo tardi signore poi è troppo tardi è troppo tardi è troppo tardi cioè ragazzi quante persone stanno soffrendo adesso di una cosa del genere ma ci rendiamo conto veramente ora basta ora parlo proprio alla cruda 16 anni